Ieri ho detto dicembre, ancora il 3 gennaio del 2021 e ovviamente sui giornali cosa troviamo? Il tema dei vaccini e lo scontro con le regioni. Poi c'è una dichiarazione davvero incredibile del commissario Arcuri della quale parleremo. Parleremo dei vaccini, parleremo dello sci, parleremo delle contagi a nord-est, delle vittime a nord-est che sono molte di più rispetto alla prima ondata ed è stato un dicembre terribile. Crisanti che si vaccina, Zaia, domani ricomincia la conferenza stampa, domani sera ne parleremo a Ringa alle 21.15 su Antena 3, ma oggi rilascia un'intervista all'amico Marco Bonnet del Corriere del Veneto. Crisanti che si è vaccinato, ve l'ho detto. Arriviamo alla resa dei conti del governo, quindi la crisi vera o presunta e mi pare un po' più o meno questo. Allora, ciao Graziella, Luigina, buongiorno a tutti, Stefania e Mary. Allora, qual è, Michela è chiara, ciao buongiorno. Allora, che cosa ci dicono oggi i giornali? Che è quello che stiamo ribadendo da ormai più di qualche giorno, che ieri era abbastanza chiaro, oggi è evidente a tutti. Siamo in ritardissimo. Il dato, qual è, è quello del sito legato alla presidenza del Consiglio. Stamattina dice 84.000 vaccinazioni in Italia, 84.000 vaccinazioni. In Veneto siamo arrivati a 11.119, in Friuli Venezia Giulia a 3.160. Come al solito non vedo i commenti, vediamo se qua. Buongiorno Nicoletta, eccoli qua Pasqualina, grazie per i vostri saluti. Adesso vediamo se ci sono anche domande e dubbi, magari proviamo insieme a risolverli. Che cosa riusciamo a capire, ovviamente, da quello che si racconta sui giornali, è che c'è uno scaricabarile, fondamentalmente. Cioè, siccome siamo in ritardo, in Lombardia addirittura soltanto il 3% di vaccinazioni rispetto alle dosi arrivate fino a questo momento, e ve le dico, 80.595 dosi consegnate, vaccinazioni 2.446, risponde Gallera, è assurdo questo conteggio ridicolo, non si può fare una guerra su una battaglia, una concorrenza su questo tipo di cose, io non richiamo i medici dalle vacanze, da domani partiamo, da domani è la partenza vera, e da domani in Lombardia 10.000 dosi al giorno, così risponde Gallera. Ma poi arriviamo ad Arcuri, la Sicilia ha 46.000 dosi, ne ha fatte 2.400, veniamo a quello che è il Veneto, ma con i dati della giornata di ieri, 38.900 dosi consegnate, 6.000 quelle inoculate, quindi il 15,5%. Il Friuli Venezia Giulia, dei nostri amici, così seguiamo il nord-est come sempre, 11.965 dosi consegnate, 1.948 quelle inoculate, il 16,3%. 1 su 10 nella media italiana. E questo è il ritmo che noi stiamo mantenendo. E Arcuri cosa risponde? Guardate che è sui giornali, è sui giornali oggi, quello che lui ha dichiarato ieri, ovviamente facendo ricadere le colpe sulle regioni che sono in ritardo, magari non organizzate, non c'è un piano completo dei centri. Cioè il commissario dice che non sa neanche quali sono i centri dove si deve andare a effettuare questa vaccinazione, cioè lui non ha in mano ben chiaro quali, quanti, dove, perché, quanti sono nel nostro paese i centri di vaccinazione. A me sembra una cosa ovviamente folle. Dopodiché ho cercato di leggere un po' meglio le dichiarazioni, lui in realtà dice che ovviamente è un piano in evoluzione, che le primule dovranno comparire dove ancora non è ben definito il tutto. Insomma, questo è quello che ci racconta Arcuri di questo tema della vaccinazione, per i quali siamo sì secondi in Europa, per l'Inghilterra non è più in Europa, dopo la Germania, ma siamo comunque molto a rilento. C'è un caso Francia invece dove i contagi esplodono, tra l'altro, ma non c'è, le vaccinazioni sono pochissime. Della Lombardia vi ho raccontato, volevo prima di arrivare a Crisanti le parole di Zaia, rapidamente, anche sulla scuola, ieri sono arrivate due quasi certezze. La prima è che ieri abbiamo detto a chi ha impianti di risalita, alberghi e tutto quello che c'è in montagna, una montagna ricoperta di neve come non mai quest'anno. Ah sì, il 7 non si ricomincia a sciare, e gliel'abbiamo detto ieri. Oggettivamente l'avevano già capito, perché non è che sono deficienti, ne hanno atteso il governo. Ma che giorno era ieri? Il 2 gennaio gli hanno detto, ah il 7 non si riapre, forse si apre il 18 gli impianti di sci. Mentre la scuola, ieri hanno detto, ah la scuola riapre. Su questo sapete come la penso, ma comunque questo è il quadro. Molti governatori invece non sono per nulla convinti di questo. In Lombardia sono arrivate anche le, dice denuncia Gallera, anche le siringhe sbagliate, un po' più grandi rispetto a quelle che invece consentono l'inoculazione dello 0,3 necessario. Quindi anche lì c'è tutto questo affaire legato al problema della vaccinazione. Il bollettino del Veneto preoccupa molto, resterebbe in giallo quanto abbiamo capito, almeno nei primi giorni. Zaia è preoccupato, lo sono in tanti. Ieri il direttore generale dell'ULS2, quindi di Treviso, ha detto che ci sono troppe persone che violano la quarantena e almeno 30 casi negli ultimi giorni e mi sembra di capire che siccome, guardate, sono parole che usa Zaia proprio oggi, le persone fanno fatica a capire queste restrizioni, cioè frustrazione, dice Zaia al Corriere del Veneto oggi, per i divieti e perché non vediamo degli effetti. Cioè, prima i colori, poi 15 giorni adesso durante il Natale di chiusure, di fatto con il rosso e l'arancione. E il risultato qual è? Che i contagi aumentano. E quindi noi tutti, io l'uomo della strada, non riesco a capire perché non si inverta questa benedetta, maledetta rotta. Bene, e quindi cosa dice Zaia? Che forse le persone sono un po' stanche, portano la mascherina solo per evitare la multa, dice Zaia in questa intervista, e allora magari è calata un po' l'attenzione e quindi anche, come dice Benazzi, qualcuno, benché in quarantena, se ne esce magari contagiando altri. E questo diventa oggi la nuova chiave di lettura per spiegare l'aumento dei contagi, ancora una volta la nostra disattenzione. Quando vi ho detto settimane fa che la terza ondata già era colpa nostra ancora prima di parlarne e questo è il risultato. In Italia il dato è più che raddoppiato, parliamo delle vittime e soprattutto del nord-est, l'area più colpita, Veneto, Friuli, Venezia, Giulia. Friuli, Venezia, Giulia ha dei dati tremendi rispetto alla prima fase, pur essendo chiaramente limitati, su questo lo sappiamo bene, il Trentino Alto Adige, tutto questo mondo qui. Più che raddoppiato in un mese il dato dei deceduti, passando dal 14,53 al 33,4 decessi, ogni 100.000 residenti. A nord-est l'aumento è ancora più consistente. In Friuli, Venezia, Giulia, dal 13,95 al 62,16, vittima ogni 100.000 abitanti. In Veneto dal 12,18 al 43,3. In Trentino dal 19,71 al 47,17. Alto Adige, quella che è peggiore in Italia, è la Valle d'Aosta. Rispetto, quindi, la differenza tra autunno e inverno, passata da 81, no, rispetto alla prima fase, che è peggiorata tantissimo, rispetto alla prima ondata, comunque da 81,27 al 82,07. Ma insomma, sapete che è una delle regioni percentualmente più colpite. E questi sono i dati che riguardano appunto il nord-est. Andiamo veloci, sulla scuola c'è la rabbia, come sapete, di insegnanti, presidi. Domani ne parleremo a ring alle 21.15 su Antenna 3, con, speriamo appunto, anche i rappresentanti di presidi. Cominceremo con un'intervista a Carlo Nordio, mitico, che quando deve dire una cosa la dice sempre, non si fa mai problemi, quindi alle 21.15 l'appuntamento con Carlo Nordio. Presidi, insegnanti, governatori sono contro questa decisione del governo. Il governo che fa? Dice che la scuola si apre e Zaia oggi, in questa intervista al Corriere del Veneto, ribadisce come io non lo so ancora, cioè poi è un paradosso ovviamente, perché si tratterebbe di aprire al 50% le superiori in presenza, mentre le altre è scontato che si riaprano. Su questo Zaia tuttora dice io non lo so, vedremo in base all'analisi dei tecnici, a questo report che lui ha appunto chiesto all'area scuola del Veneto. Mentre allo stesso tempo c'è una circolare che si attende per oggi da parte del Ministero per capire finalmente, dopo mesi, che dobbiamo fare di tamponi molecolari e tamponi rapidi. Vanno conteggiati insieme oppure continuate a conteggiare la percentuale di nuovi positivi solo sui molecolari, pur prendendo l'intero monte dei tamponi. Come esempio oggi vedremo se il governo almeno si rende conto che questa cosa è una follia. In tutto questo della scuola già nei giorni scorsi si era raccontato molto bene come ci sia una difficoltà forte nel fare gli orari scaglionati. 11 regioni sarebbero pronte con l'ingresso alle 8 o l'ingresso alle 10 e mezza, ma cosa vuol dire? Se fai entrare i ragazzi alle 10 e mezza vuol dire che finiscono alle 4 e mezza, 5, alcuni prima di tornare a casa magari con i bus, due su tre usano i bus, lo dicono oggi ancora i presidi, sono molto preoccupati proprio per questo rischio contagio per quanto concerne la riapertura della scuola. Ebbene, con questo aspetto si ritorna a casa almeno alle 16.30, alle 17, magari col bus alle 18, non hanno mangiato perché non si mangerebbe in questo caso a scuola, devono fare i compiti quando? La sera alle 21, la mattina alle 6, insomma ovviamente sono tutta una serie di difficoltà, che bisogna affrontare. Prima di arrivare a questa ridicola resa dei conti, quindi la politica e la crisi che non c'è, o c'è, vediamo che cosa mi sono dimenticato, lo scive l'ho detto dal 18 ma ancora non c'è alcuna certezza, Crisanti alla fine si è vaccinato, l'avete visto un po' tutti, l'abbiamo fatto vedere e seguire in diretta ieri, dice non mi sono pentito di nulla, non c'era nulla di cui pentirsi, il vaccino è sicuro, avevo bisogno di rassicurazioni, è una svolta nella battaglia, resteremo con la mascherina fino a dicembre, mentre Rigoli dice vacciniamoci tutti, nell'arco di tre mesi ne usciremo, speriamo, ma questo è il simbolo della protesta di qualche settimana fa, lo scienziato che mette in dubbio la validità del vaccino, che alla fine si vaccina a favore di telecamere. C'è un problema invece a AstraZeneca che ieri anche il direttore generale della AIFA ha sottolineato, qui resta da capire davvero se il vaccino ha qualche controindicazione, come in un paio di casi e allora rischierà ulteriori ritardi, benché tutte le carte siano pronte e siano state consegnate, e questo stop è un segnale di serietà. Allora, c'è la storia di Linda, oggi raccontata dal Corriere del Veneto, sopravvissuta, la spagnola, guarita dal Covid, a 107 anni in una casa di riposo, la signora di Caorle, fantastica, straordinaria, ha perso il papà nella prima guerra, il marito nella seconda, ha cresciuto da sola due figli, autonoma fino a 98 anni, una signora straordinaria, ha avuto il tifo, ha avuto tutta una serie di malattie, ma la sua tempra straordinaria, ha 107 anni, ieri ha festeggiato il compleanno, dopo essere uscita dal Covid durato un mese. Bene, sulla ridicola crisi di Conte, ne parleremo domani sera anche a Ring, i responsabili se ne vanno, Berlusconi lancia un segnale, noi in Parlamento non sosterremo un'eventuale guerra di numeri tra Conte se sta in piedi e Renzi che vuole farlo cadere o comunque commutare nella sua numerologia, diventerebbe il Conte Ter, ma dopo ne discutiamo, quindi non ci sarebbe il sostegno per Conte, allora le vie sono tre, come già detto. Uno è il rimpasto, e allora alla fin fine potrebbe trovare posto all'interno del governo il triestino, Ettore Rosato, il presidente di Italia Viva. Seconda opzione, il Conte Ter, quindi organizzano tutto, si mettono d'accordo sui ministeri, sulla squadra di governo, sull'orizzonte, sulle cose da fare, e poi lui si dimette e gli danno il rincarico immediatamente, ma questa cosa un po' mette dei timori. Allo stesso conto ovviamente al Movimento 5 Stelle che vede in Conte il proprio eventuale candidato futuro, se si va al voto e quindi deve essere lui il simbolo più forte per guidare eventualmente il partito, il movimento al voto, e la terza opzione è quella dell'agonia, che poi francamente mi sembra quella più credibile nel nostro paese, più consolidata. Quindi si va avanti così, con questo governo che governicchia, con una maggioranza o un sostegno delle decisioni un po' raccoglitice, peccato perché ovviamente noi abbiamo bisogno di una impronta forte in questo momento, ma insomma queste sono le tre opzioni, con i responsabili che nella guerra di numeri invece si sarebbero defilati e quindi ora la soluzione è soltanto una delle due, o il rimpasto o l'agonia per vedere che cosa succede. Ma non escludiamo ovviamente la politica, l'arte del possibile, ma in questo caso se vi perdete nella lettura di ogni giorno, di quello che ricostruiscono i quotidiani, ovviamente perdiamo invece sullo sfondo l'unica cosa che c'è da fare, decisioni prese rapidamente e per il futuro di questo paese, che sono legate soprattutto alle recovery fund. Mi dispiace perché non ho visto i commenti come mi capita ogni tanto, vediamo se riesco a vederli da qua. Niente, ci vediamo domani mattina con l'Avarino, domani sera alle 21.15 invece su Antena 3 per Ring, e se avete la possibilità di leggere sul sito www.ferdinandoavarino.it ho visto che è stato l'articolo più letto ieri, quello di Ottavio Divini, il medico delle Molinette, che ci racconta anche il suo punto di vista su molte polemiche di questi giorni, le paure per quanto riguarda i vaccini, la vaccinazione, per quanto riguarda la logistica della distribuzione e per l'ultrafreddo di questo vaccino, insomma ci aiuta a capire tante cose, ho visto che è stato un articolo molto gradito e più che altro il suo sfogo sui social che noi abbiamo ripreso. Ciao, buona domenica!